weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono XIUDER e ragazzi barabam barabam non so perché la cosa del telegiornale ragazzi nuova pinnacoli nuova pinnacoli guardate che figata intanto il personaggio ogni volta che entri nella nuova pinnacoli veste una specie di pastrano si chiamerebbe per la precisione ed è a tema far west come vedete è modificata da pochissimi minuti soprattutto con l'aggiornamento 10.0 non mi sparare non mi sparare zio sto facendo un video lasciami stare come si dice con l'aggiornamento 10.0 guardate vi ricordo che ci sono delle cose ciao bello ci sono delle cose ragazzi che non si possono fare nella nuova pinnacoli non si può buildare non si può farmare infatti come vedete non è possibile farmare e vabbè ma tu sei veramente non si può buildare non si può farmare e ci sono delle armi che saranno disponibili solamente in questa city ragazzi seguiamo intanto ragazzi la gente come vedete questo sta imbracciando una doppietta ragazzi e anche una sei colpi armi che vengono probabilmente credo droppate quando si esce da pinnacoli perché come vedete è circondata da una specie di aura azzurra che è l'aura che ha creato in poche parole il rift beacon è veramente ragazzi meravigliosa io avevo già liccato le immagini poco fa ma vi auguro di buttarvi di andare a vederla perché c'è il delirio io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video tutti alla nuova pinnacoli che poi è quella vecchia noi ci vediamo alle 15 in live su youtube con fortnite ciao 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 ciao